prima devo fare un ringraziamento a tutte le persone che sono venute dal meridione dalla sicilia dalla puglia dalla calabria campania dalla sardegna dall abruzzo dalle marche un grazie il vero cuore che sono venuti a trovarci ricordo che io di solito non faccio mai dare le testimonianze di guarigione liberazione perché dopo ci sono le gelosie eccetera eccetera perché quella guarita io no io tanti anni che soffro eccetera eccetera però ogni tanto qualche caso un po particolare facciamo dare la testimonianza va bene mi ricordate la mamma che non si poteva avvicinare al bambino quella è una cosa particolare stasera abbiamo un'altra una signora che soffre da oltre quasi 30 anni è andata a tantissimi sacerdoti esorcisti che la derideva che diceva che non aveva niente che la mandava via che ha trovato un sacerdote bravo che l'ha aiutata padre Roberto viene cominciato il cammino di liberazione e qui da noi si sta liberando speriamo di completare questa liberazione oggi sono andati via due demoni uno dopo 27 anni e l'altro dopo 8 anni pensate un po voi ha avuto un calvario che voi non potete manco immaginare ha avuto delle sofferenze atrocissime ha rischiato la vita lei e i figli la vita una drammaticità unica adesso vi faccio raccontare la storia va bene questa è una cosa veramente ce la faccio raccontare perché è straordinaria per le grazie che ci fa la madonna oggi anche una grandissima festa mario sediatrice se dopo voi buonasera io mi chiamo filomena ho 49 anni sono sposata e ho quattro figli e vengo dall abruzzo la mia storia è molto lunga inizia nel lontano 1990 quindi 31 anni fa quando feci rientro in italia con i miei genitori dove eravamo immigrati in germania allora sono cresciuta con genitori che mi hanno sempre ovattata tenuta sempre al sicuro determinati ragionamenti non si facevano quindi io ero molto ingenua vabbè tornata qui dopo all'incirca un anno conosco mio marito e fu amore a prima vista ci siamo subito fidanzati solo che c'era un problema all'epoca c'era la leva obbligatoria e quindi lui era anche qualche anno un annetto più piccolo di me e quindi dovevamo prima assolvere a questo dovere mio marito è partito e lì è iniziato il mio calvario è partito l'hanno mandato subito a palermo allora c'erano state le stragi di capaci erano stati uccisi sia falcone che borsellino e lui era stato assegnato alla scorta di quelli che rimanevano tornato a casa il giorno di natale la sera stessa di natale fu richiamato dal governo e dovette partire per la somalia allora erano stati inviati i nostri militari in somalia lui era tra il primo plotone che partiva per la somalia e non l'ho rivisto più io l'ho visto quando si è congedato nel mese di giugno è stata una una lotta continua non riuscivamo neanche a sentirci al telefono perché immaginate voi stava in somalia c'era una cosa impossibile avere una telefonata parliamo del 91 mi sembra sì vabbè comunque piano piano ci siamo fidanzati allora c'erano ancora le regole del fidanzamento ufficiale ci siamo fidanzati e piano piano insomma abbiamo iniziato a costruire una casa e poi siamo arrivati al matrimonio e da lì è stato un susseguirsi di un calvario continuo nel senso che io mi sono sposata nel giugno del 1997 nel settembre 1997 arriva il mio primo ricovero in ospedale ingrassata di 46 chili peli dappertutto un viso inguardabile e niente nessun medico riusciva a farmi una diagnosi l'unica cosa che iniziarono a dirmi che non avrei avuto figli allora iniziai a girare un po per l'italia sant'orso la bologna sono stata anche a milano sono stata a napoli sono stata a roma poi a chieti e poi più volte a pescara insomma entravo e uscivo dagli ospedali senza nessun esito intanto passava il tempo e io dentro casa iniziavo ad avvertire rumori appena mio marito usciva cominciavano a sbattere le porte le finestre avevamo la botola che andava su in soffitta si apriva e io non vedevo ma sentivo tanta gente scendere lungo quella scalinata urlare per la casa e provai a dirlo a mia madre perché insomma uno io non avevo mai sentito parlare di queste cose quindi provai a raccontarlo a mia madre che insomma andò su tutte le furie mi disse che come potevo iniziare a raccontare queste storie che ero impazzita allora tenne per me tutto il resto tutto il resto era la casa sporca io lavavo per terra mi giravo dietro eravamo due persone mio marito lavorava ero da sola era come se fosse passato un luogo di pecore indietro mi capitava alle volte di aprire il rubinetto e invece dell'acqua usciva il sangue e si rompevano le tubature in una casa nuovissima si rompevano tutti gli elettrodomestici frigorifero il forno insomma tutto quello che nell'uso quotidiano di una casa e nel frattempo i figli non arrivavano così un bel giorno io avevo ospite mia cugina a casa mia apri l'acqua perché dovevo riempire la caffettiera allora c'era la moca per fare il caffè e invece dell'acqua uscì di nuovo il sangue al che mia cugina mi costrinse ad andare subito da un frate che all'epoca riceveva a isernia ed era padre roberto quando siamo arrivati da lui c'era un sacco di gente era pieno pieno lui cacciò tutti fuori mi fece entrare dentro in sacrestia e io iniziai a ridere lui mi dice guarda che hai molto poco da ridere tu c'è un maleficio a morte e non hai molto tempo da vivere se non fai quello che ti dico io allora quello che mi diceva lui era di pregare il rosario tutti i giorni di andare tutte le mattine a messa di fare una buona confessione e di iniziare appunto da tutto quanto questo bene io andai da padre roberto la prima volta il 9 aprile 2002 il 7 maggio quindi neanche un mese dopo ero incinta quando io ero su tutte le furie c'è una mia una mia felicità enorme quando lo comunica e a padre roberto mi dice guarda no e io dico ma come io ho girato tanto sei anni medici ospedali adesso arrivo qui rimango incinta tu mi dici no dice no purtroppo il maleficio che hai è così grande che io purtroppo non posso aiutarti a trattenere questa creatura la perderai e così fu il giorno che entravo anzi il giorno dopo che ero entrata al quarto mese ebbi un aborto spontaneo e quindi mi regai in ospedale prima provarono a farmi il parto pilotato poi decisero di farmi il raschiamento e vi parlo che insomma era una cosa atroce per me subire una cosa del genere un'umiliazione terribile comunque dopo tre settimane io vado dalla dottoressa dalla ginecologa per farmi la visita per vedere se era andato tutto bene dopo il raschiamento e lei mi comunica che ero nuovamente incinta e io rimasi perplessa dico ma come una vita a provarci sei anni a provarci niente adesso in tre settimane succede l'africa vabbè comunque lei mi disse di non fare degli spropositi di mettermi a letto di farmi fare le flebo e per almeno tre mesi e comunque non mi assicurava niente tornai da padre roberto e mi disse guarda il bambino lui parlava già di un maschietto il bambino verrà va tutto va tutto bene non ti preoccupare l'importante è che non lo fai sapere a nessuno ti dirò io quando lo potrei comunicare alla famiglia e così fu il giorno che entrai al quarto mese mi disse guarda puoi dirlo a tutti e comunicai alla famiglia che ero incinta mi diete però quel giorno una medaglietta da portare al collo a protezione del bambino bene la gravidanza andò tutto bene arriviamo al giorno che entro al nono mese siccome aveva avuto il diabete gestazionale iniziano a farmi fare i tracciati il 16 marzo 2003 vado a fare il tracciato e l'infermiera mi prende la pressione mi dice ma ti senti bene ma io ho detto guarda sì ma sicura guarda se me lo ripeti di nuovo magari inizio pure a spaventarmi avevo la pressione 240 su 130 allora decidono di farmi un cesareo d'urgenza voi sapete che quando entri in sala operatoria devi toglierti tutto non puoi portare anelli collane medaglie tutte queste cose nel momento in cui mi hanno tolto questa medaglietta dal collo il bambino è nato che non respirava non non piangeva e soprattutto era nero ma proprio nero io l'ho visto soltanto passare di sfuggita e lo misero dentro una culletta ventilata ma il bambino aveva avuto un distress respiratorio molto grande mi sono dimenticata a dire che durante il cesareo io sono andata in emorragia ero sveglia avevo l'epidurale e ho visto schizzare il sangue dappertutto i medici che stavano praticando il cesareo hanno cominciato a litigare tra di loro per chi era stato si sono presi a botte il rianimatore che era dietro di me aveva iniziato a urlare contro questi medici e a un certo punto il mio macchinario è andato in allarme e allora hanno cominciato a dire questa sta morendo muovetevi vedevo gente correre a destra e a sinistra è stato terribile fatto sta che mentre accadeva tutto quanto questo mio figlio non respirava al che mio fratello si è accorto della situazione e ha chiesto il trasferimento a Pescara che era un centro molto più attrezzato di quel piccolo centro dove io ho partorito fatto sta che il bambino è stato trasferito a Pescara e nel frattempo la dottoressa la pediatra di Pescara mi chiama e mi dice mi chiede se io avevo visto mio figlio io gli dico no non l'ho visto beh guardi signora meglio così perché tanto il bambino non ce la farà e così almeno non avrà ricordi a riguardo però le si era dimenticata che io per nove mesi quel bambino l'avevo portato dentro e lo sentivo già mio comunque alle due di notte mio marito va da padre Roberto e gli va a raccontare la storia lui subito chiede della medaglietta la medaglietta era stata presa anzi è stata proprio smarrita in quelle frangente perché figurati se loro pensavano a una collana una medaglia o quant'altro allora padre Roberto dà a mio marito un santino non ricordo neanche che santino fosse comunque da mettere vicino al bambino mio marito parte dai Sernia torna a Pescara intanto si erano fatte le 5 la mattina e da questo santino all'infermiera e lei poverina si è fatta prendere anche un pochettino dalla pietà vedendo un papà che alle 5 di mattina va a portare questo santino e lo ha condentato l'ha messo vicino al nome del bambino la mattina questo è successo verso le 5 verso mezzogiorno ci chiama la dottoressa e dice io non lo so voi quale santi avere in paradiso comunque il bambino è fuori pericolo va bene il 25 di marzo mio figlio esce dall'ospedale lo andiamo a riprendere e torniamo a casa e iniziamo a vivere questa grande avventura un bambino sereno tranquillo dopo pochi mesi rimango incinta subito del secondo e io piangevo piangevo pensando a tutto quello che avevo passato con la prima gravidanza questa volta la gravidanza è andata benissimo solo che quando nasce mio figlio si ripete lo schema corse terribili bambino in distress respiratorio una settimana di incubatrice e padre roberto che pregava per noi con questi santini che andavano e venivano benedizioni a non finire dopo torniamo a casa con mio figlio io dopo qualche settimana anzi era il terzo mese che aveva mio figlio inizia ad avere di nuovo le nausee al che chiamo la dottoressa e dico dottoressa probabilmente ci avrò qualche problema dice guarda non ti preoccupare fino a me passa in studio che ti vedo mi fa la visita e lei rimane sbalordita dice ma che cavolo hai combinato io ho detto madonna chissà che cosa avrò fatto sei di nuovo incinta e questa volta erano gemelli io sono rimasta senza fiato vabbè comunque per farla breve al terzo mese una delle piccoline è rimasta lì buona buona non aveva più il battito però non ha fatto nessuna mossa è rimasta lì vicino alla sorella aspettando che lei nascesse vabbè tra alti e bassi potete immaginare con tre bambini di due un anno e appena nata è stata una tragedia appena iniziato notti che non dormivano otto mesi non hanno chiuso occhio il secondo e la terza senza dormire stressata insomma era una situazione un po' abbastanza pesante quando andavamo da padre Roberto ci diceva che questi bambini la notte venivano vessati venivano svegliati insomma c'erano dei disturbi in casa allora facciamo dire le messe facciamo fare le benedizioni andiamo spessissimo tutta la famiglia a prendere le benedizioni e tra alti e bassi si va avanti nel 2010 anzi nel 2009 fine 2009 era il periodo di Natale inizio di nuovo ad avere le nausee e dico a mio marito io penso di essere incinta però ero contentissima perché io le avevo sempre detto che volevo due maschi e due femmine da quando avevo cinque anni e quindi ero super felice facciamo il test e risulta essere positivo ma io non sono andata a fare nessuna visita medica perché già con la terza volevano chiudermi le tube mi avevano cominciato a dire che era pericoloso perché avevo fatto tre cesari ho detto adesso che mi presento lì questi mi faranno abortire 4 e 4 a 8 e quindi ho aspettato il quinto mese messa al sicuro vado dal medico mi ha cacciato proprio dallo studio perché non era possibile che mi avevano fatto abortire come aborto terapeutico insomma tutte queste storie io ovviamente non ho accettato vabbè comunque mi avevano talmente tanto convinta che sarei morta che una settimana prima di andarmi a fare il cesareo sono andata dal mio parroco e ho chiesto di fare un eventualmente sarei morta un funerale molto sobrio e di non pensare ai fronzoli a tutte quelle cose che fanno palloncini quello e quell'altro ho detto io voglio che date tutto fino all'ultimo centesimo ai miei figli perché mio marito dovrà crescerli da solo e quindi avrà bisogno dei soldi il risultato è stato che è stato il miglior cesareo di sempre cioè dei quattro è stato il migliore non ho avuto dolori non ho avuto problemi non ho avuto niente torniamo a casa iniziamo a vivere come famiglia numerosa perché quella eravamo e un giorno esattamente il 28 settembre 2010 mia figlia aveva due mesi e un giorno inizio a piangere ma piangeva addirotto avevo sempre sentito parlare dell'istinto materno di quella cosa che ti viene però sinceramente non è che ci avevo creduto un granché pensavo che fosse suggestione più che altro invece mi sono dovuta ricredere perché a un certo punto ho cominciato ad avere un magone una sensazione di qualcosa che stava accadendo di molto brutto chiamo mio marito e gli chiedo di tornare subito a casa e lui mi risponde ma come? per un mal di pancia tu mamma di quattro figli vai all'ospedale gli ho detto guarda io secondo me questo non è un semplice mal di pancia dobbiamo andare all'ospedale l'ho convinto è tornato siamo andati all'ospedale appena che entriamo all'ospedale gli fanno un'ecografia addominale e vedono che la bambina aveva l'addome pieno di sangue però onestamente mi dissero subito che loro non avevano capito cosa stava succedendo per fortuna hanno chiamato il primario della pediatria che ha deciso subito di trasferire mia figlia a Pescara allora a me non mi hanno lasciato andare in ambulanza mia figlia è andata in ambulanza e io e mio marito siamo andati dietro l'ambulanza con la macchina fino a Francavilla che dista pochissimi chilometri da Pescara andavamo a 170-180 con le sirene spiegate a un certo punto verso Francavilla comincia a fare 70-80 ho detto a mio marito vedete che la bambina è morta no ma non ci pensare diceva mio marito non ci devi ne pensare a cose negative arriviamo davanti all'ospedale la dottoressa apre la porta che aveva la dottoressa che ha accompagnato mia figlia e io le chiedo subito è morta e lei mi dice signora manca pochissimo ha fatto sette scariche di sangue non ha più una goccia di sangue nelle vene entrati loro avevano già avvertito che saremmo arrivati in codice rosso entrati nel pronto soccorso ci mandano direttamente alla rianimazione mi sbattono la porta in faccia perché giustamente loro dovevano pensare alla bambina non potevano pensare a consolare me e c'era una statua identica a questa all'ingresso della rianimazione al che la bambina l'avevano spogliato per strada io avevo un paio di calzini che erano così la bambina c'era due mesi aveva pensato due chili e sei alla nascita quindi era proprio minuscolo lì la madonna stava con le mani aperte così io gliel'ho messa in mano i calzini gli ho detto fa che possa indossarli ancora ma non da morta praticamente dopo scarso un'ora si affaccia il medico era il primario della pediatria di Pescara e mi dice con un certificato in mano dice signora la bambina è deceduta sono 55 minuti di arresto cardiaco dice noi tra 5 minuti dichiariamo il decesso definitivo quindi se vuole chiamare qualcuno delle sue parti per portare la bara e i panni o se ha dei figli piccoli da fargli vedere la sorellina adesso è il momento io non vi nascondo che in quel momento sono andata nel panico e la mia reazione è stata di prendere quel certificato di strapparlo e di buttarglielo in faccia e gli ho detto ma se tu stai qui chi guarisce mia figlia? Dio lavora attraverso le tue mani lui mi ha guardato con un'aria molto pietosa proprio come uno che pensa questa sta imbazzendo quindi non mi ha risposto ed è tornato dentro dopo un bel po' quasi un'ora e più si affaccia era pallidissimo mi ha detto signora io non lo so come ha fatto la bambina non ha una goccia di sangue nelle vene ma il suo cuore sta pulsando è ritornata a battere dice adesso torneremo dentro e vedremo se riusciamo a fargli una trasfusione trovarono una vena l'unica vena che era possibile era sotto la capiglia hanno tagliato a vivo così e hanno cominciato a infondere il sangue bene mia figlia ha avuto un altro arresto cardiaco di 45 minuti ha avuto 24 ore di micro convulsioni è stata operata le hanno asportato la pendicite in quell'occasione perché hanno scoperto che mia figlia era completamente retroversa il che significa che gli organi sono tutti al lato opposto tranne il cuore e mi hanno detto gliel'abbiamo asportato perché nell'eventualità andasse in peretonite il chirurgo non lo troverebbe mai fatto sta io molto contenta che la bambina era sopravvissuta l'avevano operato mi dicono però signora c'è poco da essere felici perché la bambina con tutti quegli arresti cardiaci e le successive micro convulsioni che sono durate per 24 ore sarà sicuramente celebrolesa non camminerà non mangerà e non avrà una vita sociale mai va bene io ho detto non fa niente se Dio vuole così io accetto così l'importante è che è in mezzo a noi forse è stato anche un comportamento egoistico però io non volevo lasciarla andare va bene fatto sta che io mi sono convinta che come le malattie accadono a tante altre persone è accaduto anche a mia figlia e non volevo andare da padre Roberto alla fine la mia famiglia mi ha convinta dice ma che ti costa vai e quindi quella mattina mi ha accompagnato mio padre andiamo da padre Roberto io l'unica cosa che indossava la bambina erano i pannolini altrimenti era nuda dentro a un'incubatrice e quindi mi sono portata i pannolini per farli ribenedire quando entrammo io ho preso il numero davanti a me c'erano 103 persone ho detto Dio il tuo mio padre è qua non ne veniamo fuori oggi io devo tornare a pescare dalla bambina in quell'istante si affacciò padre Roberto e mi disse forza entra con tono autoritario io ho detto figurati se ce l'ha con me e mi fa di nuovo entra l'ho guardato ho detto ma ce l'hai con me? sì vado dentro come vado dentro gli dico scusami fermati un attimo ma non mi dire che anche qui c'è un maleficio e ha detto che cosa pensavi che cosa fosse ha detto la bambina va rioperata ancora ma non può restare a Pescara la dobbiamo far trasferire a Roma al bambin Gesù io avevo avuto un colloquio con il primario di Pescara il giorno prima il che mi aveva già detto che avevano provato in tutti i modi a trovare un posto al bambin Gesù ma non era possibile oltre ad essere strapieno c'era una lunghissima lista d'attesa e quindi gli ho detto guarda abbiamo già pensato a questa cosa ma non è possibile mi hanno detto che l'unico disponibile in questo momento è il gaslini a Genova quindi io abruzzese avevo tre figli a casa piccoli e già li lasciavo e li vedevo pochissimo trasferirmi a gaslini a Genova voleva dire non vederli più e io vedevo questa famiglia che si stava sgretolando a destra e a sinistra padre Roberto mi diceva con un tono autoritario va bene tu vai vicino a tua figlia e preghiamo vabbè preghiamo io non ci credevo sinceramente ve lo dico metto in macchina e vado direttamente a Pescara come entro trovo il primario in mezzo alla porta che mi stava aspettando e mi dice su su signora tutte le mattine viene presto oggi dove si è persa e io dico che sta succedendo perché ogni giorno ce n'era una nuova dice signora la bambina la stiamo trasferendo al Gesù bambino a Roma ci hanno chiamato che si è liberato un posto e vista l'urgenza hanno accettato di farla trasferire quindi lei è partita per Roma e io sono dovuta tornare in treno a casa a San Salvo mio marito mi aspettava alla stazione del treno di San Salvo ci siamo cambiati abbiamo buttato due cose dentro una valigia e siamo partiti arriviamo a Roma la bambina era tutti i giorni un solo condino ha avuto uno shock anafilattico a un antibiotico poi ha avuto convulsioni di nuovo e poi ha avuto una reazione allergica a un altro antibiotico poi avevano sbagliato le hanno messo una siringa grandissima che era un antibiotico destinato a un bambino di 14 anni e l'infermiera si era sbagliata io me ne sono accorta per puro caso ha fatto 42 trasfusioni di sangue in tutto 56 giorni di febbre a 40 è stato un calvario continuo ma padre Roberto mi aveva avvertito sarà operata ancora saprai che hai finito quando le toglieranno un pezzo in quel pezzo è attaccato il maleficio bene io ne avevo visti già di tutti i colori però non ancora riuscivo a crederci fino in fondo a questa cosa fatto sta non potevo credere cioè non potevo accettare che una persona potesse accanirsi su un esserino così così era mia figlia dentro quel letto di ospedale va bene comunque fatto sta che padre Roberto mi impose di far venire una persona cara di famiglia perché altrimenti non saremmo venuti fuori doveva stare lei con mia figlia a Roma ma io non mi fidavo cioè non mi fidavo di lasciarci neanche mia madre perché ero ogni minuto c'era una novità fatto sta che lui me lo impose anche mio marito mi disse scusami ma se te lo stai imponendo te lo stai dicendo facciamo come dice lui allora lei è partita insieme a mio marito che l'accompagnava per darmi il cambio il sabato mattina quel sabato mattina un bambino ricoverato di otto anni a fianco a mia figlia vede un serpente sul letto di mia figlia e comincia a urlare io non lo vedevo io ho acceso la luce perché era ancora buio ma io non lo vedevo al che capita a caso che in questa camera ci fosse la signora che accudiva padre Matteo la grua di Palermo e quindi lei aveva di mistichezza con queste cose e mi dice io vado subito a chiamare il cappellano e faccio dare una benedizione io non mi opposi ma neanche le spiegai le mie situazioni fatto sta che dopo che viene questo sacerdote a benedirci vengono due infermiere e mi dicono che io andavo isolata insieme a mia figlia perché essendo che mia figlia non aveva ancora ricevuto il vaccino era esposta a malattie quindi dovevamo stare da soli ci portano in un'altra camera una camera un po' un po' angustiosa un po' bruttina e ci chiudono dentro io non vedevo più passare nessuno non avevo modo di scambiare una parola con qualcuno insomma era una situazione abbastanza brutta verso le tre del pomeriggio mio marito sarebbe arrivata con questa persona verso le quattro verso le tre del pomeriggio io stavo girata a guardare mia figlia come mi giro verso la finestra vedo passare le fiamme avevamo preso fuoco al che il mio estinto era di aprire subito la porta del corridoio e di vedere cosa stava succedendo c'era un fumo nero ma nero 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 e una puzza terribile al che estintivamente richiusi subito la porta bene l'ospedale è stato evacuato quella 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 ala dove eravamo noi è stato evacuato per le scale interne l'uniche io e mia figlia e due infermiere siamo state evacuate da una scala antingendio esterna io soffro terribilmente le altezze al che sotto c'era questa signora che accudiva padre Matteo la grua e mi disse figlia mia ma chi ti viene a trovare oggi il diavolo e lì mi sono cominciata a fare due domande perché padre Roberto mi aveva imposto di far venire questa persona e poi erano successe queste cose qualche dubbio iniziava a venirmi comunque lei è arrivata all'ospedale insieme a mio marito e non voleva restare perché aveva paura perché comunque poi sono state trasferite in un'altra ala bruttissima vecchia dell'ospedale e lei è capitata insieme a una donna musulmana che pregava di continuo lei era terribilmente irritata e non voleva rimanere correva verso la macchina che voleva tornarsene a casa e lì mio marito disse no no mi dispiace lei deve tornare a casa perché deve venire dagli altri figli tu rimani qua e lei è rimasta là il risultato domenica notte mia figlia si è avvolvolata di nuovo alle 2.35 è entrata in sala operatoria alle otto e un quarto la mattina è uscita e il professore mi ha detto che le avevano tolto 40 centimetri di intestino perché era troppo lungo è nata con l'intestino troppo lungo il martedì successivo siamo tornati a casa e mia figlia non ha avuto più neanche un mal di pancia niente e io nonostante tutto mi rifiutavo ancora di accettare che questa persona fosse la persona che ci aveva causato tutto questo male il problema è un altro è che lei non si è fermata ha aumentato tutta la dose bollette che arrivavano 2-3 volte e non si trovava quella pagata quindi dovevo ripagarla ora voi penserete ma questa è sciagurata vi garantisco che come le pagavo le mettevo a volte con quello pagato dentro il cassettino quando andavo lì a cercare la bolletta c'era l'involucro ma non c'era più quello pagato poi né pagato né senza pagare ci arrivavano delle multe che dicevano che erano state pagate con 1-2-3 giorni di ritardo e le dovevo ripagare per intero abbiamo preso 4 multe quando siamo stati a Roma e ci sono arrivati 8-900 euro bollette di acqua pagate strapagate ripagate si rompevano le macchine insomma abbiamo avuto dei danni esagerati la casa sporca perché come io pulivo ci ripassavano dietro mobili rotti graffiati rumori dentro casa una notte io ero andata a dormire un po' dopo di mio marito mio marito già dormiva io mi ero appena messa a letto avverto la presenza chiaramente di una persona che era entrata in camera pensando che fosse uno dei miei figli mi giro a guardare verso la porta ma io non vedevo nulla a un certo punto noto una sagoma che gira così dal letto si mette di fronte e si viene a sdraiare tra me e mio marito e indossava il cappello io era mia abitudine portare sempre il rosario sul comodino e la Bibbia la Bibbia non ce l'ho fatta a prendere ma il rosario si e nel momento in cui ho preso il sangue e ho gridato sangue di Gesù dentro la mia camera si è creata una nuvola di fumo e c'era una puzza di zolfo anche mio marito con questo trambusto si sveglia e lui non ha notato niente ma ha visto il fumo dentro la camera con questa terribile puzza poi i ratti che ci sono entrati in casa avevamo i ratti dappertutto e non ci siamo potuti stare dentro casa topi le civette uccelli in genere abbiamo passato un brutto quarto d'ora ora ieri sera sono partita da casa e abbiamo preso il flixbus per venire fin qui e arriviamo a Giulianova e vedo che non ripartivamo c'era salito erano salite due persone ma non si ripartiva a un certo punto sento urlare l'autista si era molto agitato e non si capiva il perché insomma un ragazzo senegalese ci aveva bloccati ci ha tenuti un'ora e mezza in ostaggio non ci ha fatto andare da nessuna parte e perché lui non so che cosa recriminava sono venuti i carabinieri poi è venuta un'altra pattuglia di carabinieri in poche parole noi all'una e mezza dovevamo stare a Ancona all'una e mezza stavamo ancora a Giulianova quando poi l'hanno fatto entrare presumo che lui volesse entrare sul pullman e non pagare il biglietto era quello il suo obiettivo penso io perché poi lui è entrato passandomi a Canto mi fa una smorfia come per dire che vuoi perché io mi sono girata dall'altra parte ho fatto figlia di non vedere vabbè insomma così siamo arrivati poi grazie a Dio a Milano prendo la metro vado a Monza a Monza prendo il treno il treno si rompe e siamo stati fermi un buon tre quarti d'ora e dopo grazie a Dio siamo ripartiti e pensavo di non arrivare più insomma è stata una tragedia un'agonia l'unica cosa che vi voglio dire è che quando sentite che qualcosa non va chiedete aiuto chiedete aiuto girate talmente tanto fino a quando vi si apriranno le porte perché ne va di mezzo la vostra famiglia non solo voi io ho sofferto tanto però i miei figli hanno pagato il prezzo più alto di tutto quello che abbiamo passato vedete il demonio non voleva farla arrivare perché oggi sono andati via in due capito ha messo tutti i paletti ma con le nostre preghiere si sono riusciti a farla arrivare ringraziamo la Madonna per questa grandissima testimonianza e che ne vale anche a quelli che a casa ci ascoltano che soffrono da anni vedete il Signore è libera in qualsiasi momento in qualsiasi istante e ringraziamo la Madonna per tutto quello che ci ha dato stasera Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Amén. 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 Ecco, ricordo le persone a casa che soffrono a casa di un malificio, di una fatura maledizione, non abbattetevi mai la deliberazione a Rion in qualsiasi momento e qualsiasi istante. Bisogna pregare con il cuore. Guardate le testimonianze che abbiamo avuto prima, quante ne ha passate per colpa del maligno. Ma il Signore l'ha aiutata, la Madonna l'ha aiutata. Ed ecco qui. sono veramente delle grazie e miracoli straordinari quello che fa Gesù e la Madonna perciò quelli che soffrono, e io soffro più degli altri non è vero, tu non soffri più degli altri quelli che soffrono a causa di maligno soffrono tutti in malissimo modo, diciamo così tutti nello stesso modo chi in un modo, chi in un modo, ma sono tutti in male, il maligno non fa stare bene nessuno fa stare male, ricordato non soffri più di quell'altro che quell'altro magari ne passa più di te non bisogna dire queste cose, capito? vedete la Signora quante ne ha passate veramente di tutti i colori drammatica la sua, è un calvario ma il Signore gli ha voluto bene e l'ha mandata qui da noi, pensate un po' che è bello questo, infatti ha messo tutti i paletti per non farla arrivare, poverina, ma ce l'abbiamo fatta, stasera ho tagliato un po' le preghiere per ascoltare questa grandissima testimonianza, facciamo le litanie a Maria Osidiatrice, visto che oggi è anche la festa Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici Padre del Cielo che sei Dio Abbi pietà di noi Figlio Redentore del mondo che sei Dio Abbi pietà di noi Spirito Santo che sei Dio Abbi pietà di noi Santa Trinità, unico Dio Abbi pietà di noi Santa Madre di Dio Prega per noi Figlia prediletta del Padre Prega per noi Madre del Verbo incarnato Prega per noi Tempio dello Spirito Santo Prega per noi Vergine scelta da tutta l'eternità Prega per noi Figlia di Adamo Prega per noi Figlia di Sion Prega per noi Vergine immacolata Prega per noi Vergine di Nazareth Prega per noi Vergine adombrata dallo Spirito Prega per noi Madre del Signore Prega per noi Madre dell'Emmanuele Prega per noi Madre di Cristo Prega per noi Madre di Gesù Prega per noi Madre del Salvatore Prega per noi Socia del Redentore Prega per noi Tu che hai accolto la parola Prega per noi Tu che hai dato al mondo la vita Prega per noi Tu che hai presentato Gesù al Tempio Prega per noi Tu che hai orientato la mensa di Cana Prega per noi Tu che hai collaborato all'opera della salvezza Prega per noi Tu che hai sofferto presso la croce Prega per noi Tu che hai implorato il dono dello Spirito Prega per noi Madre dei viventi Prega per noi Madre dei fedeli Prega per noi Madre di tutti gli uomini Prega per noi Eletta tra i poveri del Signore Prega per noi Umile Ancella del Signore Prega per noi Serva della redenzione Prega per noi Pelegrina nel cammino della fede Prega per noi Vergine dell'obbedienza Prega per noi Vergine della speranza Prega per noi Vergine dell'amore Prega per noi Modello di santità Prega per noi Membro eminente nella Chiesa Prega per noi Immagine della Chiesa Prega per noi Madre della Chiesa Prega per noi Avvocata nostra Prega per noi Aiuto dei cristiani Prega per noi Soccorso dei poveri Prega per noi Mediatrice di grazia Prega per noi Assunta la gloria celeste Prega per noi Glorificata nel corpo e nell'anima Prega per noi Esaltata sopra gli angeli santi Prega per noi Regina dell'universo Prega per noi Segno di consolazione Prega per noi Segno di sicura speranza Prega per noi Segno della gloria futura Prega per noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio E saremo fatti degni delle promesse di Cristo Prega per noi Continuiamo gloria E per l'onore Inalziamo le nostre mani Adorando il nome di Dio che togli i peccati del mondo Adorando il nome di Dio che togli i peccati del mondo Adorando il nome di Dio che togli i peccati del mondo Adorando il nome di Dio che togli i peccati del mondo Adorando il nome di Dio che togli i peccati del mondo Preghiamo Signore Gesù Cristo Che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua Fa che adoriamo con viva fede Il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue Per sentire sempre in noi i benefici della redenzione Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amin E la benedizione di Dio onnipotente Padre Figlio E Spirito Santo Discenda su di voi E con voi rimanga sempre Amin Dio sia benedetto Benedetto il suo santo nome Benedetto Gesù Cristo Vero Dio e vero uomo Benedetto il nome di Gesù Benedetto il suo sacratissimo cuore Benedetto il suo preziosissimo sangue Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare Benedetto lo Spirito Santo Paraclito Benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima Benedetto la sua santa e immacolata concezione Benedetto la sua gloriosa assunzione Benedetto il nome di Maria Vergine Madre Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi Benedetto di Dio 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 seguire il santo rosario il lunedì sera ore 20 e 30 preghiere guarigione liberazione mercoledì sera e venerdì sera ore 20 e 30 la messa di guarigione il mercoledì sera riservate volontari bene è stata una grande testimonianza oggi è una festa grandissima da madonna mai festeggiata da pochi maria ausiliatrice ci ha fatto questa grande grazia ringraziamo la donna per tutto quello che c'è anche questa sera quello che c'è da ragione a venire e ricorda quelli a casa non abbattetevi mai se pregate con il cuore signore libera all'istante quando meno lo aspettate va bene che signore gesù la madonna che fanno queste grazie le liberazioni non siamo noi noi siamo qui per pregare che arrivano quanto prima le liberazioni e guarigioni questo possiamo fare le liberazioni arrivano da loro ringraziamo per tutto tutto quello che ci ha dato che oggi una grandissima festa l'anima mia magnifica il signore e il mio spirito esulta in dio mio salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata grandi cose ha fatto in me l'onnipotente e santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha ricolmato di bene gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote ha soccorso israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri ad abramo e alla sua discendenza per sempre gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli uniti in preghiera a tutti buonanotte concludiamo con il canto grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.